Il nostro atteggiamento davanti alla parola di Dio è il tema trattato oggi dal Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. La libertà cristiana e l'obbedienza cristiana è docilità alla parola di Dio. E avere quel coraggio di diventare otri nuovi, per questo vino nuovo che viene continuamente. Questo coraggio di discernere sempre, discernere dico, non relativizzare, discernere sempre cosa fa lo Spirito nel mio cuore, cosa vuole lo Spirito nel mio cuore, dove mi porta lo Spirito nel mio cuore e obbedire. Discernere e obbedire. Chiediamo oggi la grazia della docilità alla parola di Dio, a questa parola che è viva ed efficace, che discerna i sentimenti e i pensieri del cuore. Grazie. 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 Grazie.